Sì, diciamo che oggi il calcio per noi va in secondo piano, cioè oggi la nostra famiglia è stata colpita da una tragica scomparsa, un nostro collaboratore, un giornalista splendido, una persona splendida, 34 anni improvvisamente è venuto a mancare, quindi oggi per noi è stata una giornata vissuta senza senso, senza senso perché non è possibile morire a 34 anni improvvisamente così. Chiaramente le condoglianze da parte della nostra redazione di Rete 8 e credo anche di tutti gli sportivi abruzzesi perché è una serata molto difficile, le chiedo solo un commento brevissimo della partita dove si è visto forse il miglior Pescara della stagione. Io devo dire che Pescara oggi sicuramente ha meritato, ha merivato ampiamente la vittoria, ha fatto una partita, che dire, una partita direi quasi perfetta, dopo il primo gol forse non c'è più stata nemmeno partita, valori importanti in campo, noi siamo una squadra che fa un buon calcio, gioca un buon calcio e devo ammettere che oggi il Pescara è la prima squadra che veramente ci ha messo in difficoltà, ha fatto veramente una partita splendida. Grazie direttore e ancora le condoglianze per quanto è successo al Ponte d'Era.